Paolo Frattura non dovrebbe attendere la mozione di sfiducia, peraltro dagli esiti scontati visto che i consiglieri regionali di maggioranza la bocceranno. Paolo Frattura si dovrebbe dimettere e basta, perché è un bugiardo. C'è da restare atterriti nel leggere e rileggere l'allucinante denuncia per estorsione presentata da Frattura contro la sottoscritta e contro il magistrato Fabio Papa. Menzogne a ruota libera, un continuo capovolgimento della realtà dei fatti contro le prove più logiche ed elementari. Parla di tentativi di avvicinamento da parte della spregiudicata giornalista sempre andati a vuoto ed è smentito da dolci bigliettini firmati di suo pugno. Parla di rapporti tra noi inesistenti, di un clima terribile, toni molto accesi, aspri che destavano forte disappunto. Ed è smentito da prove video schiaccianti, scherzi e buonumore, la familiarità e la confidenza maturate in anni di frequentazione cordiale, prima che decidesse di trasformare Telemolise in un nemico da abbattere. Sarai il Molise di tutti, va bene così? Per questo sogno possibile, per questo sogno possibile. tu ridevi. Vabbè. E te. Ma che cazzo? Tu mi fai chiagno, no? Anzi brutale così. Ma non è per questo che frattura si deve dimettere. Lo deve fare perché le sue menzogne, spregiudicate, plateali, sfacciate, mortificano l'istituzione che rappresenta. E il Molise non merita questo biglietto da visita. Lo si è visto troppe volte in questi anni. Con la storiaccia della villa al mare, storiaccia, è proprio il caso di chiamarla così, è andato in scena l'ennesimo spettacolo di un personaggio ormai ridotto a caricatura di se stesso e vittima di una sindrome della menzogna che lo porta a negare qualsiasi cosa. Ed è andato in scena questo spettacolo senza l'ombra di una replica. Aveva promesso di chiarire e ha organizzato invece una conferenza stampa per annunciarsi vittima di false cene e false estorsioni, usando la sede istituzionale come fosse una taverna. Nei prossimi giorni affronterò, come ho sempre fatto per tutte le altre vicende importanti, la questione della casa di Termoli. Lo sento come dovere nei confronti di tutti i molisani. Lo farò a breve, ma perdonatemi, non oggi. Ha negato di aver sbattuto fuori la legittima affittuaria, mentre i giudici scrivono a chiare lettere che la signora ha subito uno spoglio violento e clandestino e condannano frattura al pagamento delle spese processuali. Ha negato e non ha risposto a nessuno degli interrogativi che una vicenda così clamorosa meriterebbe. Per esempio, quali sono i suoi rapporti reali con il socio Torzi e quanto gli è costata la villa di cui possiede l'esclusiva. Per esempio, se si è accorto delle devastazioni e dei saccheggi all'interno dell'appartamento conteso e si è asporto regolare denuncia. Oggi nega Paolo Frattura di essere stato bastonato al tavolo tecnico della sanità, mentre ieri negava decisioni, atti, firme. Domani, con la stessa disinvoltura, negherà di essere stato il governatore del Molise. Senza provare imbarazzo, senza provare il minimo disagio. Mente alle iene, mente ai giornali, mente in tv, mente in consiglio regionale, inventandosi e leggendo intercettazioni false, mai esistite, mai trascritte. Mente davanti ai magistrati, quando va a presentare denunce deliranti confermate da un un unico testimone, il suo amico avvocato. E allora, il tempo dello stupore, dello scandalo, dell'indignazione, è scaduto. È tempo di tirare le conclusioni.